Enfea Salute è un fondo di assistenza sanitaria integrativa che va a erogare prestazioni di natura sanitaria, quali rimborsi spese per visite mediche, per visite legate a spese dentarie. Ed è un importante pilastro in quanto sappiamo benissimo che la sanità pubblica nel tempo non riuscirà a soddisfare tutte le prestazioni dei nostri cittadini. Poter avere anche un secondo pilastro legato alla parte privata, completa e da piena copertura all'esigenza ovviamente di una popolazione che è sempre più sensibile, sempre più attenta al tema della salute, proprio durante questa fase pandemica si è accentuato questo elemento e il fondo, consapevole di ciò, ha anche previsto proprio delle prestazioni dedicate al Covid. Quindi i lavoratori nel corso del 2020 e anche qua nei primi mesi del 2021 hanno a disposizione questo tipo di prestazioni e lo stanno usando con grande soddisfazione.